Il congresso del Partito Democratico del Circo di Sulmona è stato sospeso. Gli organi decisionali del partito hanno così deciso per fare chiarezza ed assumere decisioni consapevoli. Ma cosa è accaduto? Il gruppo dell'ex sindaco Bruno Di Masci è stato reinserito nell'anagrafe degli iscritti in base ad una decisione della Commissione regionale di garanzia del Partito Democratico che ha respinto il ricorso proposto dal segretario del Circo di Sulmona Franco Casciani contro il tessoramento dei dimasciani. Si dispone di reinscrivere e di mantenere iscritti nell'anagrafe tenuta dall'ufficio adesioni provinciale e territoriale e nell'anagrafe tenuta dal Dipartimento. Così si legge nel verbale sottoscritto dal Presidente della Commissione regionale di garanzia del Partito Democratico, Carlo Benedetti, il quale sottolinea che le motivazioni proposte da Casciani devono riguardare le posizioni e ogni singolo richiedente è escluso e necessitano delle esplicite enunciazioni di motivi di esclusione. Si era pertanto creata qualche preoccupazione di eventuali difficoltà al momento delle votazioni. Pertanto, grazie anche all'intervento del senatore Michele Fina, tra l'altro segretario regionale del Partito, si è presa la decisione, come dire, di mettere la palla al centro, discutere, fare chiarezza. Ma occorremmo un po' di tempo da qui la decisione di sospendere i lavori del Congresso del Circolo. Ieri abbiamo ascoltato le regioni della scritteria con l'intervista a Franco Casciani, oggi ascoltiamo le regioni, come dire, dell'altra parte, con un'intervista a dottor Luciano Marinucci. In realtà noi non ci siamo mai a lontani dal Partito Democratico, a prescindere dalle elezioni amministrative, che, come sai, comportano delle dinamiche diverse. Però in realtà noi abbiamo semplicemente, nelle ultime elezioni politiche, il Partito Democratico, a differenza di altre realtà della regione Abruzzo, ha avuto un buon successo, anche e soprattutto perché al Partito Democratico ha aderito e ha votato la nostra componente, la componente di Masciano, altrimenti il risultato sarebbe stato uguale, come quello di tutto l'Abruzzo di tutta l'Italia, in cui il Partito Democratico purtroppo ha perso terreno. In questa fase politica ci è sembrato opportuno, visto che considerate che si riparte quasi da zero, il rinnovamento del Partito, una nuova politica, un nuovo movimento di aggregazione, ci stanno quattro mozioni da discutere, per cui rinnovando il segretario, rinnovando la politica del Partito Democratico, in questa fase ci è sembrato opportuno riaderire con il fesseramento al Partito Democratico e quindi avere la possibilità di partecipare sia alla discussione politica delle mozioni, ma soprattutto rinserirsi in una politica attiva della nostra città che penso che soprattutto ci sono tanti problemi nella nostra città e noi vogliamo collaborare, ne dico così, problemi importanti, come questo è quello dell'ospedale, importantissimo, come questo è quello del tribunale, importantissimo, come il problema delle scuole, ma soprattutto le infrastrutture, la viabilità e sappiamo questo problema sia della ferrovia che c'è Roma, Roma-Pescara e poi soprattutto tutti quegli provvedimenti economici che riguardano il PNR, per cui fare attrazione, quindi portare investimenti nella nostra realtà. Era questo il motivo che ci hanno indotto a rientrare nel Partito Democratico, così per fare politica e dare un nostro contributo. Era solo questo il pensiero. Chiaramente era questa l'occasione giusta del congresso nazionale, con le nuove posizioni che ti portano al rinnovamento dei circoli, al rinnovamento delle segreterie provinciali, delle segreterie regionali e nello stesso tema, soprattutto con il dibattito politico. Quindi il nostro intendo, noi non dobbiamo né sfasciare niente, né litigare, in questo momento particolare, in cui il Partito Democratico, diciamoli chiaramente, non sta attraversando un periodo floreto. Io lo pelince, no. Siccome noi siamo stati sempre del centro-sinistra, abbiamo votato il Partito Democratico, ci è sembrato opportuno in questa fase rientrare nel partito, riniziare a fare una discussione politica e poi, cioè, chiaramente, prima chiarendo tutte le situazioni, ma soprattutto di rinnovare. Perché non credi che tu vai a stoppare 40 persone, non è che tu so Dimash, oppure figlio di Dimash, ci sta un sacco di professionisti, un sacco di personalità, non puoi bloccare. E ha fatto bene il Presidente della Commissione regionale a rinserirle. In questa fase qua, se, diciamo, anche questo, il fatto di stoppare momentaneamente la Convenzione Comunale, che se può servire a rinnovare un dibattito, quindi ha un chiarimento generale, a ricominciare a discutere... Un chiarimento importante. Io penso che sia opportuno, cioè, io penso che la politica non si fa né con i risentimenti, né con il rancore, né con le vendette, bisogna fare una politica seria, e soprattutto in questa fase in cui sul mondo sta attraversando un periodo particolare. Il Partito Democratico, a livello nazionale, diciamo, anche su un periodo particolare, io penso che mettendo la palla al centro, come si suol dire, mettendosi intorno a un tavolino e cercando di chiarire e di riaffrontare i problemi reali, cioè affrontare i problemi reali che sono della quotidianità e cercare di risolverli, penso che sia un metodo preciso per tutti per andare avanti. Il fatto è di...